Nell'incontro svolto a Pinerolo la cinquantina di persone presenti hanno ascoltato l'assessore e hanno portato le loro esperienze e richieste. Vogliamo più risorse economiche, hanno detto, e che i nostri utenti vengano seguiti perché le norme ci sono ma non vengono applicate e non ci sono poi i percorsi adeguati. Noi abbiamo attivato una prima fase che è durata circa due mesi con incontri diffusi sul territorio fatti con gli attori che nei diversi territori si occupano di politiche sociali e di politiche mirate a creare servizi per le persone più deboli. Quindi parliamo di amministratori locali, di operatori del settore, sindacati, realtà del volontariato del terzo settore, cooperative e sociali. Abbiamo fatto una grande campagna di ascolto innanzitutto perché ci sembrava opportuno riattivare un clima di cooperazione tra la regione e le comunità territoriali. Questa campagna di ascolto che abbiamo attivato è finalizzata a individuare le priorità fondamentali che devono essere pianificate e programmate in modo tale che il sistema del welfare piemontese sappia essere un sistema capace di rispondere ai problemi più veri delle nostre comunità. A livello regionale c'è una totale anarchia sui servizi psichiatrici, ha detto Ferrari, non esiste una normativa. Ha detto che nell'incontro dei giorni scorsi con l'assessore alla sanità Saita è servito per fare in modo che gli assegni di cura siano poi gestiti insieme tra quota sociale e quota sanitaria. Certamente oggi in questa bellissima occasione di dibattito, di confronto che abbiamo vissuto insieme, è emerso come esista un problema di programmazione, di riordino normativo e di semplificazione di governo territoriale di tutti quegli interventi che sono finalizzati all'ambito della non autosufficienza. Quindi parliamo degli anziani, parliamo dei disabili, parliamo dei malati psichiatrici, parliamo dei minori con problemi di carattere neuropsichiatrico, parliamo di tutte le persone affette da autismo. Insomma tutta una serie di problematiche che negli ultimi anni sono anche aumentate e hanno acquisito una complessità maggiore che hanno bisogno che la regione intervenga col suo proprio compito che è quello di programmare, riordinare la normativa e cercare di caratterizzare e organizzare un livello di governo territoriale che sia efficace, soprattutto rispetto al punto di vista dei cittadini che deve essere messo al primo posto. Sono in ricerca, ha aggiunto Ferrari, abbiamo necessità a livello regionale di giungere a un nuovo quadro normativo di riferimento sul tema della non autosufficienza a partire dalla persona e dei suoi bisogni. Ma a Pinerolo e nel Pinerolese la situazione com'è? Pinerolo si trova ad affrontare il problema della casa soprattutto, ed è un problema che in questo momento è davvero un problema di assoluta emergenza. Voi credo che siamo tutti consapevoli della crisi socio-economica che stiamo vivendo e in conseguenza di questa crisi sono sempre di più le famiglie, anche famiglie che un tempo potevano avere una certa garanzia dal punto di vista proprio economico, sono sempre di più le famiglie che invece oggi si trovano nella situazione di non poter più far fronte alle spese per una casa. A fronte di questa grossa difficoltà noi abbiamo attivato alcuni interventi. Un intervento così, diciamo il primo intervento quando proprio non riusciamo ad avere, a trovare altre sistemazioni è quello alberghiero. L'altra formula che in questo momento forse è quella che riusciamo così a gestire in modo un po' più consistente è quella di quando una famiglia arriva al Comune di Pinerolo e ha iniziato un percorso di sfratto, noi interveniamo con una serie di aiuti che vanno in due direzioni, cioè noi si parla direttamente o con il proprietario o con l'avvocato che sta seguendo la pratica, per cui si cerca di dare o un contributo a sanare l'amorosità pregressa, oppure cercando di fare in modo di, con un'indennità di occupazione, cioè noi mantenere il più a lungo possibile la famiglia in quell'abitazione, cioè dando noi come Comune un contributo e chiedendo alla famiglia di mettere da parte sua un piccolo contributo. Questa è la formula che nel 2014 forse abbiamo utilizzato di più.